Questa sera il Pescara spera di congedarsi dai propri tifosi con una vittoria. Una piccola soddisfazione per un pubblico che nel 2017 ha dovuto ingoiare tanti rospi. Una retrocessione, appena due vittorie in Serie A ed una ripartenza con Zeman in questa stagione di B costellata da problemi di chimica e di squadra. Gioco raramente espresso come vorrebbe il Boemo e risultati complessivamente sotto le aspettative con la panchina dello stesso Zeman che è stata pericolante negli ultimi giorni anche per via del botte e risposta mediatico con il presidente Sebastiani. Tre punti rimetterebbero in parte a posto la classifica. Regalerebbero una sosta più serena con il Delfino pronto a sferrare l'assalto ai play-off nel girone di ritorno. In società le operazioni in vista del mercato sono già iniziate. Retrocesso da titolare di inizio stagione a Panchinaro, il portiere Mirko Pigliacelli potrebbe riaccasarsi alla Provercelli in prestito. Per l'estremo difensore si tratterebbe di un ritorno nella squadra piemontese nella quale ha militato nella stagione 2014-2015. Altro indiziato alla partenza con la permanenza di Zeman sulla panchina del Delfino è il centravanti Simone Andrea Gans. L'attaccante, lasciato i margini dal Boemo, fa gola all'Ascoli ma sull'ex Lariano fa un pensierino anche il Foggia di Stroppa che già in estate si era inserito tra il Pescara e la Juventus prima della chiusura della trattativa. L'Atalanta, come ha detto Zeman in conferenza, rivuole indietro Valzania per poterlo girare in un club come il Carpi che gli può garantire impiego maggiore rispetto a quanto avvenuto in rival adriatico. Un altro che rientrerà alla base, ovvero l'Atalanta, sarà Latte Latte, mai impiegato in stagione in prima squadra. Per lui appena quattro presenze in primavera. Ma sono tanti altri i fronti da sviluppare. Zeman ha battuto tanto sul tasto della rosa troppo ampia, difficile da gestire e la dirigenza Bianca-Azzurra dovrà adoperarsi per snellire e tanto l'organico. Argomenti che saranno ancora più attuali nei prossimi giorni. Questa sera intanto la partita col Venezia. Cesare Bovo non sarà neanche in panchina. Il difensore, disponibile a intermittenza quest'anno, è stato operato ieri per la pulizia della cartilagine del ginocchio destro. Starà fuori un paio di mesi. Ben Ali era finito sotto i ferri per un intervento alla mano la scorsa settimana e tornerà a disposizione probabilmente a febbraio. La partita di questa sera dovrebbe segnare il ritorno dal primo minuto di Proietti mentre Valsania, forse la sua ultima in bianca-azzurro, dovrebbe essere preferito a Coulibaly. Nel Venezia, out Falzerane Domizzi, recuperato in extremis Modolo che dovrebbe spuntarla su Cernuto per un posto nella zona centrale della difesa. Fischio d'inizio alle ore 20.30 con la direzione di Abbattista Di Molfetta. TV6, come sempre, seguirà la partita con l'ultima puntata dell'anno di Diretta Stadio in onda a partire dalle ore 20. Grazie. Grazie. Grazie.